A proposito di Giovanna, io c'ho un Giovanni qua, un compagno mio, un compagno nostro che ha messo la piazzetta, lo vorrei presentare, Giovanni Clori, Giovanni Clori è bello perché si applausi, si applausi stessi, ai miei colleghi, Giovanni Clori, come state maestro? E' bello, sono benissimo, tutto bene, grande Giovanni, ti raccomando a settembre? Continua, bello, bello, tirato e consumato, molto bello asciutto, sembra guappe, a cominciare, a settembre ti voglio in forma smagliante, 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 e' il 20 settembre, andrei a me, molto bello, il 20 settembre, senti 80 lo saprei, vuoi dire 80, Nell'ambo che diamo? 80 80 Ma io chavo qua qui 80 8 80 33 33 E' un momento, aspettate Come ho andato? 33 Ehi, hai capito? Ho 16 anni a me, no? Sì, ma è un'emissione per 10 A settembre Io proviamo a fare Ah! Ho sentito che la mia mia Giovanni Clori